buongiorno alt documenti si ok può andare grazie forza forza diamo buongiorno un attimo che si fa noi figuriamo se stiamo lavorando diciamo documento documento sa è la prassi si 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 giornata difficile eh si come stai chiesto vediamo il telefono stai no? no va bene buongiorno 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 un attimo si fa presto a dire chiedo scusa si fa presto i documenti stiamo chiedendo che stiamo a fare e che stiamo giocando qui basta chiedere non si distrae uno non fregno dalla destra o dalla sinistra un po rovinato eh si va bene vediamo? si può passare ok grazie siamo esposito ma cioè io dico ma che state facendo? chi è? eh comandante ti avevo ordinato di impedire l'ingresso a chi che sia ma il comandante eh eh attenzione tutti sono entrati ma chi che sia non è venuto proprio e se viene lo blocchiamo eh e che stiamo a fare qua? che si? doveva fischi che si grazie 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 grazie